Sei tornata dalle vacanze e i tuoi capelli sono secchi e sfibrati? O semplicemente sono spesso secchi e spenti con tantissime dope punte? Ciao a tutti, benvenuti sul canale, io sono Vittoria e in questo video voglio condividere con voi la mia routine in tre facili e veloci step per andare a ristrutturare e idratare i nostri capelli passando da una condizione così a così e in questo video condividerò con voi anche qualche trucchetto, piccolo accorgimento che fa la differenza quindi mi raccomando se non siete ancora iscritti a questo canale iscrivetevi e fatevi sapere se volete vedere più video di capellanza e ricciolanza e lasciate un like di supporto se non l'avete ancora lasciato perché in questo video troverete una routine veramente bombastica veramente fantastica perché è veloce e immediata, vedrete subito i risultati ed è con ingredienti totalmente naturali di un brand che io amo, adoro, conosco da anni lo utilizzo da anni e se mi conoscete l'avrete già visto nel canale già da almeno 6 anni in questo video troverete la mia routine che va bene per tutte le tipologie di capello quindi non solo per chi è riccia come me, perché è una routine idratante e ristrutturante quindi è perfetta per questo periodo post vacanze dove si ritorna dal mare, la salsedine quando si va in piscina e si fanno un sacco di tuffi in mare, si gioca, si gioca con i bambini quindi insomma i capelli vengono un po' stressati e nonostante tutti i nostri accorgimenti che possiamo adottare spesso si torna dalle vacanze con un capello secco, sfibrato, con doppie punte ovunque io non so voi ma io detesto le doppie punte perché fanno sembrare il capello svuotato, spento, triste insomma iniziamo subito con il video iniziamo subito con il primo step e vado ad applicare sulle mie lunghezze e sulle punte dove ci sono un bel po' di doppie punte l'olio per capelli Ayurvedico Rose Repair che è un cocktail nutriente ricco di vitamine, minerali, antiossidanti che va ad idratare già il mio capello e ristrutturarlo e lo lascio in posa proprio come trattamento pre-shampoo per 30-60 minuti minimo ma se volete anche tutta la notte e dopodiché arriviamo al secondo step e inizio a risciacquare il mio capello prima di procedere con lo shampoo e vado ad utilizzare lo shampoo Ayurvedico Rose Repair vado prima a bagnare i miei capelli e poi vado ad applicare lo shampoo sulle punte in modo da andare a lavare per bene il mio cuoio capelluto perché è lì che si va a concentrare tutto lo sporco e qui arriviamo al terzo step che è quello fondamentale per terminare la nostra routine in tre step e vado ad utilizzare il nuovo balsamo Kadi Ayurvedico Rose Revolution è il primo trattamento senza siliconi solamente con ingredienti naturali è praticamente un cocktail di sostanze naturali che va a districare immediatamente i capelli vedete che io qua non ho tagliato assolutamente le clip proprio per farvi vedere il potere districante immediato di questo balsamo io penso di non aver mai provato un balsamo così potente perché mi lascia veramente i capelli come se avessi utilizzato un trattamento super siliconico di quelli che vanno a creare quella patina che simula il cappello sano ma invece no, questo è veramente tutto naturale quindi va a rinforzare proprio il mio capello grazie proprio all'Elisir Kadi che contiene nella formulazione ed è veramente veramente potente tra l'altro questa è una chicca che vi suggerisco prima di andare a mettere in posa il vostro balsamo per qualche minuto fate questo movimento andando a strizzare le ciocche per far penetrare bene il balsamo dopodiché risciacquo e devo dirvi che io già così sento i miei capelli nettamente più idratati più corposi, lisci proprio al tatto sono setosi e questo è proprio dovuto alla formulazione del nuovo balsamo Elisir Ayurvedico Kadi perché contiene un complesso idratante ristrutturante di inulina e betaina e poi contiene un mix di oli vegetali che vanno ad avvolgere il capello e lo rendono più liscio e lo proteggono anche dal calore io devo dire che già vedo la differenza guardate il mio capello come è nettamente più idratato e più elastico lo noto tantissimo e non mi succede quasi mai adoro questo balsamo e questo è il risultato io mi sento i capelli nettamente più leggeri, idratati vaporosi insomma questo trattamento in tre step è favoloso ma se volete anche voi provare il balsamo il nuovo balsamo senza siliconi di Kadi vi lascio qui sotto una speciale promozione per chi mi segue con affetto così da poter approfittare dello sconto ciao 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 ciao